Una maxi operazione condotta in sincronia dalle direzioni distrettuali antimafia di Napoli, Roma e Firenze. Oltre 90 persone arrestate e 250 milioni di euro tra beni immobili e immobili sottoposti a sequestro tra Campania, Lazio e Toscana. E questo è il bilancio del blitz che ha inferto un duro colpo al clan Contini, il sodalizio di Camorra capeggiato dall'omonimo Edoardo e Patrizio Bosti, entrambi detenuti. Scoperto un giro d'affari che coinvolge numerosi esercizi di ristorazione legati alla gastronomia napoletana, soprattutto a Roma. Dramma per una delle persone coinvolte che per sfuggire all'arresto si è lanciato dalla finestra dell'abitazione in cui si trovava ed è morto. Gran parte dell'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli, guidati da Ferdinando Rossi, che hanno eseguito oltre 50 misure di custodia cautelare.